Pareggione finale per la Tadipo di Rina, questa volta per un gol segnato l'ha fatto Corina Merli per cui un punto come lo giudicate? È stata faticosa ma ce l'abbiamo fatta, anche se speravamo di vincere ma vabbè, diciamo che un pareggio ci accontentiamo. Che emozione hai avuto per questo gol che è arrivato contro la Roma, una delle squadre più forti del campionato? È stata una bella soddisfazione, dopo tante volte che ci ho provato ce l'ho fatta, finalmente. Sicuramente la tensione giusta per voi, la carica giusta che avete dato in questa partita, così come l'ha fatto contro il progetto Futsal, vi candidate a essere protagonista anche per conquistare questi playoff? Certamente, comunque noi fino alla fine ci crederemo e andremo sempre avanti e i tre punti non ci rileva nessuno. Siamo una squadra unita e dobbiamo comunque affrontarle tutte con gran grinta e sono sicura che comunque i playoff possono diventare i nostri. Pregio che è arrivato, però un po' c'è di rammatico per non aver vinto questa partita, anche per quell'occasione che c'è stata all'ultimo, contro piedi due contro zero, forse manca qualche punto. Sicuramente qualche punto l'abbiamo perso, ma non certamente nella partita di oggi, ma in altre partite che magari abbiamo perso e non dovevamo perdere. Però diciamo che i playoff sono ancora alla nostra portata e abbiamo fatto due punti con due ottime squadre contro la prima e la seconda e come ti ripeto magari abbiamo perso punti con squadre che non dovevamo perdere, però credo ancora che ce la possiamo fare tranquillamente.